Il tema di questa sera è certamente quello di festeggiare con voi, tenendo conto che pensando all'incontro di oggi, tanti pensieri sono venuti alla mente, perché potete ben immaginare che 25 anni fa, appunto di anni, almeno io, ne avevo molti di meno, all'audacia di qualcuno che dice provaci, dando una responsabilità, ma non tanto di realizzare chissà che, ma di giocarsi un desiderio, che è un desiderio di un qualcosa di importante, che si dà e si delega, io sono stato incoraggiato a prendermi una responsabilità di cambiare, di fare qualcosa di nuovo, esattamente, qui c'era, adesso lo dico, mi hanno detto di non fare la Marcord, però è impossibile non ricordare com'è andata, io un po' di anni fa, tornando dall'università quando sono stato assunto in banca, esattamente Giorgio Vittadini, un giorno a telefono, mi ricordo esattamente dove ero, abbiamo avuto una telefonata e mi dice, beh adesso che ti sei sistemato, ma vuoi farti solo i fatti tuoi o vuoi provare a fare qualcosa di più grande? La risposta positiva è stata immediata, per cui con il lavoro in banca, invece che provare a sistemare le cose, mi sono buttato in un'avventura che non conoscevo, su quello che ho vissuto all'università, un desiderio grande di fare qualcosa che avesse lo spessore di una cosa ideale, di fare qualcosa di buono per il nostro popolo, sono parole un po' pesanti, possono sembrare, però è vero. Pensando alla giornata di oggi è stato abbastanza naturale pensare di invitare le persone che sono oggi qui, che cosa rappresentano? Rappresentano un po' la storia personale, un po' la storia di tutta la compagnia delle opere, di Foggia e la compagnia delle opere, ed è bello perché è una storia di un'associazione di imprese che però si intreccia tantissimo con la storia delle persone, perché non esistono le imprese senza le persone e la cosa interessante è stata che in questa storia tantissimi sono stati quelli che ci hanno incrociato, ci hanno incontrati, molti hanno preso anche strade diverse, però come scrivo nell'articolo io mi sentivo proprio di ringraziare tutti perché attraverso l'incontro con queste persone noi siamo quelli che siamo e siamo qui a parlarne. L'idea di oggi era che questo tentativo è un tentativo che ha avuto i suoi frutti, abbiamo fatto tanti tentativi, qualcuno è andato meglio, qualcuno meno bene, però siamo ancora qui e il desiderio di fare una cosa grande c'è ancora. Allora l'idea di stasera di invitare Giorgio Avittadini che in qualche maniera oltre che essere il fondatore originario della Compagnia delle Opere, da anni studia anche l'aspetto dei giovani al sud e quindi ha fatto un rapporto sulla sussidiarietà che ha tema a proprio l'esperienza dei giovani al sud. Poi due imprenditori foggiani, uno di questi è in arrivo da Roma, è in ritardo, ci sono stati dei problemi, ma fra dieci minuti e un quarto dovrebbero essere qui con noi. Ho invitato Michele Frisoli che è l'amministratore delegato di Manta Group che ci parlerà di un'esperienza particolare che adesso vediamo. Tutto questo poi con Giuseppe Savino che è il fondatore di WhatsApp e Bernard Scholz che è l'attuale proprio dell'esperienza propulsiva di CDO come fattore di crescita.